buongiorno scusate ragazzi posso giocare? posso giocare ragazzi? allora ho con il mio compagno oggi è dura vediamo se sarà un risveglio col sorriso o col muso oggi è dura guardate che gente mi piace e a volte può capitare a volte può capitare a volte può capitare a volte può capitare che vinci porco cane ho perso un'altra volta però bellissima partita di la verità assolutamente bella 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 ho perso un'altra volta mannaggia la maglia la devo ho voluto a camigliorare che c'ho la racchetta bucata c'ho la racchetta bucata mentre l'aria scappa la pallina esce per di là e è finito adesso sono di pasto misto è arrivata anche il misto adesso dai a te lo sono andato allo psicologo perché ho perso con te adesso mette sul mental coach le coach e dei fiori vabbè ma io c'ho tempo non vi preoccupate calma ho pagato io la colazione è giusto che non paghi per uno che ha perso la macchina ieri eccoci gruppo vacanze un urlo è tutto pronto e adesso si può partire via prima sosta vediamo un po come sta pieno 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 chi l'ha messa la nafta lui e allora c'ha nama roba non conosce nonna maria come mai conosci che c'erano le donnine conosce perché erano le signorine conosce il campano lui li sa tutti sono arrivati al mare e lui dove poteva stare eccolo sta sereno aspetta aspetta la pappa col pomodoro ragazzi magari sottotitura aspetta 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 guarda quante ne hai mangiate guarda che strana dei cozzetti guarda che strana dei cozzetti guarda che strana dei cozzetti ti controllo quante fette dei pane te mangi è già fuori con la cucina senti fa una cosa eh fatti cazzo tu nooo è fuori con la cucina io mangio quel che mi fai eh non credo ma io mica sono molto piaciuto pure la f***** te viziano di qui e arzughe eh Filipe come arzughe ragazzi sembra una pompa da cento maaa sembra guarda come ride il coccodrillo che coppia eh tutta vita questo che animale sarà questo è un leone travestito da giraffa è vero? che animale è o no? che animale è? oh ma che ne so io ma come sei arrivato? tutto bene? tutto bene dai un bacetto ah io torno tra un pochino eh che c'ho che c'ho che c'ho un po' di mal di padel devo andare a fare la partitella per tutti quelli che mi dicono eh sei scarso a padel eh ragazzi non so forte però gioco con gente molto più avanti di me per riuscire piano piano a arrivare perché poi con calma piano piano ti 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 io non c'ho fretta pian pianino e dopo pa 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 anche oggi è stata bellissima la partita però riconosco che sono indietro quindi devo recuperare e gioco con gente più forte di me molto più forte devo fare un'ora e mezzo di macchina ma che abbiamo fatto Mauro? abbiamo vinto abbiamo vinto contro? contro le forze dell'ordine e le forze speciali si è impegnato però con questa vittoria guardate che bel panorama anche le marche non scherzano ragazzi poi voglio far vedere una cosa bella e una cosa schifosa guardate i miei piedi tutti maciullati completamente piccoli tutti al mare incredibile oh no fa il balletto del mare balletto del mare vai 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 balletto del mare balletto del mare vado in Roma fermate guarda questi sassetti guarda guarda questi sassetti guarda questi sassetti guarda guarda fermate fermate quei sassetti fermate fermate eccola si è inceso vivo eh nel mio bastone eh supererò il limite del supersayan secondo livello non so fare toccata farmi toccarla mi ha stato mi ha pistato mi ha stato lei ti tocca una poccina hai visto che scatto il cobrano guardalo fammi toccarla una poccina guarda come ride andiamo a cambiare la serata si io che mi cambio mi metto un giacchetto ma tu dovresti mettere che ne so il fracche bel giacchetto di pelle da cantante dai ragazzi tra un quarto d'ora 20 minuti ci vediamo qua eh sì sì lo so lo so c'ho la roba lì dai vedi quante volte mi chiamano per me birretta e anche loro fanno l'aperitivo con niente 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 ma con voi non si può uscire Nicolè stasera ti volevo portare a ballare stasera che gioventù che porta a cena guardate che gioventù che porta a cena che spettacolo che bello che beh queste sono le cose belle altro che i stellati secondo me stasera faustino si mangia 10 arrosticino si è vero si si che pie che pie quale dito quale dito quale dito il quadrillo sta aspettando la preda guardate o no la spanna polavica o no la spanna tica o no 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 per fortuna guarda che gli avete l'abbassato scemo scemo è gelata pure questa riesce bene fate tre malbraccia no 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 ho sentito un dio dio no ha cambiato posto Filiberto perché volevamo stare vicini 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 una scatapustica una scatapustica una scatapustica tuto signora il rosticino eccolo no io non lo mangio il coccodrillo si butta il coccodrillo si butta la coppia che scoppia ha da dirvi una cosa è buona la pecora beeeh beeeh ale e via la pecora è buona mamma mia che battutona mettici un po' di limone sulla bruschetta sto fermo più no il pane no un esemplare di coccodrillo che sta sbaranando la sua pecora possibilmente col pelo guardate come fa destro sinistro dentiera misto guardate con le mani con la bocca bar come mai la benedizione è la lettra benedizione benedicus vopis impotentis deus peccatoribus bestemmiorudit amè stasera ti ha pagato è io federico ha scroccato un'altra volta 1,2,3,4 scroccone scroccone arrivederci arrivederci ci vediamo dopo guarda come guarda il coccodrillo grazie ciao ciao conti tu mi porti stasera io non volevo uscire ah tu? a san benedetto mi porti non sei